Quest'anno il 6 marzo ricordiamo al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano due figure di due attivisti siriani, Razan Zaitoun e Gliad Matar. Qual è l'importanza di ricordarli e cosa ci può insegnare la loro storia? E' certamente importante ricordarli, soprattutto in questo momento, perché sono due figure di quella che è la società civile, cioè la società siriana da sostenere, che ha rigettato quello che è il totalitarismo del regime e dall'altra parte l'oscurantismo dei fanatici. Quindi il loro esempio può soltanto aiutarci a comprendere davvero quella che è la situazione interna della Siria. Non dobbiamo scegliere tra il regime e il fondamentalismo, ma dobbiamo scegliere figure come Razan o come Gliad Matar, le loro storie, che sono storie che comunano milioni di persone. Credo che possa aiutare non soltanto la comunità islamica, piuttosto che il mondo arabo, ma aiuti in generale tutto quanto, nel senso il mondo occidentale, piuttosto che anche il mondo arabo, il mondo orientale, chiamiamolo così, in una sorta di riconciliazione, se si riescono a unire attorno a delle figure che possono rappresentare dei valori che sono universali. Parlare di Islam oggi è qualcosa di difficile, perché si cade sempre in quelli che sono alcuni stereotipi, alcuni pregiudizi che ci sono. Invece ricordare proprio le due figure, quella di Razan e Rias, ci fa invece comprendere che non è un mondo dove regnano i barbari, il mondo islamico piuttosto che il mondo arabo, ma esistono delle persone, dei giovani in questo caso, che hanno le nostre stesse aspettative, quelle della libertà, del rispetto reciproco. E quindi noi dobbiamo semplicemente imparare che dall'altra parte c'è gente che è tale o uguale a noi e finirla con quella dicotomia noi e gli altri. Ci sono soltanto delle incomprensioni, in sostanza. Cioè noi continuiamo a credere che gli altri debbano per forza accettare il nostro modo di vivere, piuttosto che la nostra cultura, in qualche maniera. Invece noi dobbiamo sostenere sempre quello che è l'incontro e comprendere che dall'altra parte non è detto che la cultura, la loro storia, sia in qualche maniera antitetica alla nostra. Soltanto così noi supereremo quello che è lo scontro di civiltà, tanto voluto da tanti. Noi non dobbiamo dimenticare che tutto nasce dal fatto che ci sono delle dittature che durano da mezzo secolo e la nascita del fondamentalismo è strettamente correlata a queste dittature che sono qui, che resistono da 50 anni con il supporto occidentale. Allora oggi dobbiamo credere e dobbiamo sapere che non è peggio il fondamentalismo di un regime, ma sono tutti e due uguali fondamentalismi. Perché in Siria si ammazza in nome di Assad o si ammazza in nome di un dio dal quale noi ci dissociamo. Noi dobbiamo invece scegliere quella gente che è scesa nel marzo del 2011 a manifestare per la libertà. Grazie per la visione!